Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. 14 aprile, buongiorno a tutti. Comincia qui la consueta rassegna stampa su ciò che all'estero si scrive di noi. Meloni alle prese col più grande passo compiuto fino a ora per rimodellare l'elite economica e imprenditoriale italiana. E' Bloomberg che scrive sulle recenti nomine ai vertici delle più grandi controllate italiane. Una squadra di dirigenti, scrive l'importante testata economica statunitense, che dovrebbero essere in grado di lavorare in sintonia. Dei tre ruoli aziendali più importanti è sempre Bloomberg che scrive, solo il gigante petrolifero Eni conferma il proprio amministratore delegato che è Claudio Descalzi. Per il resto, il partner di governo Salvini ha ottenuto di nominare Flavio Cattaneo all'Enel, dopo tre anni di Francesco Starace. E Roberto Cingolani, ex ministro di Draghi e la Transizione, che in questi mesi si era messo gratuitamente a disposizione del Ministero dell'Ambiente, in cassa ottenendo di sostituire Alessandro Profumo alla guida di Leonardo. Aziende che nel complesso impiegano oltre 200.000 persone in Italia e all'estero, con Eni ed Enel che da sole hanno un valore combinato di circa 110 miliardi di euro. Le nomine, che durano tre anni, conclude Bloomberg, rappresentano un'opportunità unica per la coalizione di lasciare un segno negli affari economici, in un momento in cui le regole fiscali della UE limitano lo spazio di manovra sulle finanze pubbliche e i tassi di interesse sono inferiori a quelli dell'area euro. Chat GPT potrebbe tornare in Italia a fine mese. Ne scrivono in molti nelle ultime ore, osservando l'evoluzione dei fatti dopo il divieto dell'autorità per la privacy. L'articolo lo prendo in questo caso da politico dagli Stati Uniti. Politico che riferisce di come il garante abbia concesso a OpenAI tempo per adeguare la propria piattaforma entro il 30 aprile, aprendo così la strada al ritorno. Un passo indietro che in linea di principio accetta l'impegno a una maggiore protezione su adolescenti e bambini. Alla società proprietaria di Chat GPT, infatti, è stato richiesto, inoltre, entro il 14 maggio, di condurre una campagna informativa tramite tutti i media per informare le persone su come utilizza i loro dati sensibili nell'addestramento degli algoritmi. Intanto, l'esempio di Roma è stato seguito da Parigi e da Madrid, che pur senza avere bloccato la piattaforma, hanno richiesto a OpenAI maggiori chiarimenti. E quindi, sostanzialmente, dal primo maggio tornerà tutto come prima, con buona pace delle centinaia di ingegneri elettronici addetti ai lavori che avevano chiesto una sospensione di almeno sei mesi sugli studi e sulle implementazioni riguardanti l'intelligenza artificiale. E la preoccupazione da loro espressa non riguardava certo solo i minorenni. L'Italia sprofonda nel declino demografico. Se ne è accorto Elon Musk, che a più riprese ha lanciato allarmi preoccupati dal suo account Twitter e ne scrive anche dal Belgio Lepetit Journal, il sito web in lingua francese per tutti i francesi che vivono al di fuori della Francia. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat sull'andamento del 2022 e leggo destano preoccupazioni serie sul futuro dell'Italia. Minimo storico per la natalità, mentre triplica il numero dei centenari. Oggi, come Ristretto ha ricordato nei giorni scorsi, siamo sotto la soglia psicologica dei 400.000 nati. E dal 2009 in poi il trend è stato sempre e solo discendente. L'ultimo anno in salita fu il 2008. Nel rapporto nascite-morti, oggi siamo a sette nascite contro 12 decessi ogni mille abitanti. Con il mezzo del cammin di nostra vita degli italiani, quello che ai tempi di Dante era 35 anni, passato da 45,7 a 46,4 anni. Dati che confermano l'Italia come il secondo paese più anziano al mondo dopo il Giappone, con un'aspettativa di vita a 82,6 anni. Rispetto al 2015, oggi gli italiani sono un milione in meno, 58.851.000, cifra che, se nulla interverrà a invertire la tendenza, sarà a 48 milioni nel 2070. Lo ricordate? L'episodio di quel giovane manager saudita che, circa un anno fa, si infilò con la sua Maserati giù per la scalinata di Trinità dei Monti, provocando danni per 50.000 euro? Leggo sul sito egiziano Dar Elilal che, nonostante la Questura di Roma avesse dichiarato archiviato il procedimento a fronte del pagamento da parte dell'automobilista delle spese di restauro, la Procura di Roma ha impugnato l'archiviazione e procederà per distruzione, dispersione, mutilazione, inquinamento e uso illecito di beni paesaggistici o culturali. Tutto sulla base dell'articolo 518 del Codice Penale Italiano che prevede pene che comprendono anche la reclusione per un periodo non inferiore a un anno. Il processo è stato fissato per il gennaio del 2025. Vedremo se anche in quella sede l'imputato potrà sostenere che la colpa fu del navigatore montato sulla macchina che aveva noleggiato e che lo aveva indirizzato proprio verso quelle scale. Scale storiche danneggiate dal sedicesimo al ventinovesimo gradino. Per concludere, l'Italia è ufficialmente candidata agli europei del 2032. Ora comincia la lotta contro la Turchia. Il titolo da Istanbul è dell'agenzia di stampa MediaTava e fa riferimento alla presentazione ufficiale della candidatura della PGC per il campionato del 2032. Candidatura già offerta anche dalla Turchia, appunto. Il paese ospitante sarà deciso durante la riunione dell'esecutivo della UEFA il 10 ottobre prossimo. Le città proposte dall'Italia sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. E molti si chiedono a questo punto che cosa centri la Turchia con gli europei. E la risposta sta nel fatto che, a parte che una piccola fetta di territorio turco sta in Europa, la Turchia fa parte della UEFA come altri paesi asiatici da molto tempo e ci sono anche l'Azerbaijan, l'Armenia, la Georgia, il Kazakistan che se volessero potrebbero giocare gli europei. È tutto, vi aspetto domani.